Beh diciamo che per quanto riguarda il profumo io sento molto profumo del pesto e quello della focaccia, lo vedo tutte le mattine. Quella di Recco. Noi profumi li sentiamo bene, esattamente. Quindi per quanto riguarda il test nazionale le garantisco che io non avrei mai pensato di dover finire in un test nazionale per una cosa che riguarda la regione Liguria. Invece è vero, lo vedo anche perché vedo gli avversari che sono molto preoccupati. Sembra che per usare un'espressione che noi usiamo in acqua sembra che abbiano l'acqua alla gola da questo punto di vista con tante cose che prevedono innanzitutto grandissimi finanziamenti, grandissime attività, grande pubblicità. Noi spendiamo molto poco forse perché siamo genovesi o siamo un po' così parsimoniosi però abbiamo tutto un altro approccio. Noi andiamo per strada e parliamo con le persone anziché spendere tanto in pubblicità e fare tanto. La coalizione loro la vedo molto molto disperata. No 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 mi è interessata perché i nostri autori e la redazione già hanno colto una frase sua molto importante. Il voto anche lei lo considera in qualche modo nazionale. C'è anche un po' un test sul centrodestra, sul governo, non soltanto quello Ligure dove poi tra poco ci arriveremo. Perché qui Toti è uscito per un'inchiesta giudiziaria e ora arriva lei che prova a riconquistare quella regione. Ma ne capisce il valore nazionale? Beh certo che a noi fa piacere da un certo punto di vista. La Liguria stante il suo basso numero di abitanti, siamo soltanto 1.650.000, non è mai stata considerata tranne quando ci sono le tragedie a livello nazionale. Invece sono molto contento che ci dia questa opportunità per poter essere su tutti i giornali, per poter parlare a tutta l'Italia. Perché la Liguria è una regione assolutamente strategica, importante. Da Genova e da tutti i porti della Liguria passano tutte le merci del nord Italia, della Svizzera e del sud della Germania. Abbiamo un effetto enorme sull'economia italiana e sulla blue economy, cioè tutta l'economia che viene dal mare. E per questo motivo noi pensiamo di essere assolutamente importanti. Ecco, a proposito di mare, siccome il suo predecessore Toti si è dimesso e poi ha patteggiato con la procura proprio per tutte le vicende che riguardavano il porto, quindi il ruolo della blue economy e del mare giustamente l'ha citato lei. Ma le chiedo, la sua eventuale presidenza andrà in continuità con le cose fatte da Toti oppure no? Questa è una domanda legittima che so che anche in Liguria in tanti si vanno. Guardi, io le dico la verità, come al solito. Quando sono diventato sindaco ho guardato l'amministrazione precedente, un'amministrazione di sinistra e sinistra estrema, quella del sindaco Doria. Ho valutato tutte le cose positive e le ho continuate, anzi le ho investito ancora di più. Ho valutato tutte le cose che consideravo negative e le ho cambiate drasticamente. Questo è lo stile dell'amministratore. Quando si entra in un nuovo lavoro, in una nuova attività, si fa sempre una valutazione, le cose buone si portano avanti, le cose che non vanno bene si cambiano. Sono abituato a cambiare le cose quando è necessario e farò esattamente la stessa cosa con l'amministrazione precedente. Non vedo nessuna peculiarità o favore o cose strane che dobbiamo fare soltanto perché stiamo dalla stessa parte politica. È anzi una necessità per i cittadini cambiare le cose che non vanno bene e tenere e migliorare le cose che vanno bene. Diciamo Bucci che è fuori dubbio che però nella precedente gestione di centrodestra c'era un rapporto molto particolare tra Totti e gli imprenditori. Senza entrare nel merito di quella vicenda perché Totti peraltro ha patteggiato. Ma le chiedo, così veniamo al suo programma, lei in questo non sarà in continuità con Totti, cioè in questo rapporto con questo mondo dell'imprenditoria salirà mai su una barca lei qualora dovesse diventare governatore? Salirà mai su una barca? Premesso che ci vado tutti i sabati e le domeniche sulle barche, lei deve sapere che sono un velista, quindi ci vado tutti i sabati e le domeniche sia sulla mia che su quella degli altri. È un discorso che non ha assolutamente nessun senso perché noi dobbiamo pensare che noi con gli imprenditori ci parliamo. Chi pensa di fare lavoro, di creare lavoro in una regione senza parlare con gli imprenditori è un povero illuso. Chi pensa che gli imprenditori abbiano il veleno e bisogna starci lontano è un illuso totale perché sono gli imprenditori che creano lavoro. Noi amministratori dobbiamo facilitare gli imprenditori a venire nei nostri territori. Sono andato a Ginevra, sono andato a Zurigo, sono andato addirittura a Monaco e a Hamburgo per parlare col porto e gli imprenditori che fanno lavoro per noi. Questo è il lavoro dell'amministratore e ovviamente bisogna farlo correttamente. Io l'ho sempre fatto correttamente, ho fatto 35 anni di lavoro in America, di cui 22 proprio in America fisicamente. So come parlare con gli imprenditori e questo è il motivo per cui gli imprenditori sono venuti a Genova. Noi abbiamo iniziato, faccio un esempio, un'industria che non esisteva a Genova, che è quella dei cavi sottomarini che portano mondo internet, che sbarcano ora tutti a Genova per 4 miliardi e mezzo di persone. Queste cose si fanno se c'è fiducia nell'amministrazione e noi abbiamo la fiducia dei imprenditori ed è per questo che abbiamo aumentato il lavoro a Genova di 42 mila persone in 7 anni. 42 mila posti di lavoro in più in 7 anni. Senta, nei prossimi giorni si vota, lo ricordiamo, domenica e lunedì ci sarà, immagino a Genova, la chiusura della campagna elettorale, quindi sono attesi un po' tutti i leader del centro-destra. Ieri Salvini, sostenendo la sua candidatura, vi faccio vedere, non ve lo faccio ascoltare, vi faccio vedere che cosa ha detto rispetto alla questione degli immigrati, ha parlato ovviamente non soltanto di Genova e della Liguria, ma ha usato questa espressione che in molti considerano molto infelice e che abbiamo in grafica, che è questa, i confini sono sacri, non si capisce perché secondo qualche giudice in Italia possono arrivare cani e porci. La condivide lei questa espressione a una voce dal sen sfuggita al vostro prezioso alleato? Io sono d'accordo sul fatto che i confini siano sacri, ovviamente, è una cosa importante, tra l'altro anche i confini che abbiamo perso durante la seconda guerra mondiale che per noi sono un problema, tipo ad esempio le dighe di acqua che sono sul Roia nel Ponente, ma questo è un altro discorso. Noi consideriamo che gli immigrati che vengono qui a Genova ne abbiamo tanti, ma anche tanti forse un po' diversi dalla sezione comune. Abbiamo moltissimi immigrati dall'Equador, dal Bangladesh, da aree che ci danno persone che lavorano. Quindi gli immigrati che lavorano nella nostra società sono perfettamente integrati e lavorano bene, perché ne abbiamo bisogno. E di questo, questo è un valore per la nostra società ed è un valore per la nostra città e la nostra regione. Quindi lei dice un po' qualcosa, dice noi vorremmo, abbiamo bisogno degli immigrati sostanzialmente. Ma tutta l'Italia ha bisogno degli immigrati, l'Italia ha bisogno di persone che lavorino, ovviamente in regola, ovviamente con tutte le prerogative degli contratti italiani e noi a Genova, ad esempio, abbiamo già quasi 60.000 persone che sono in questa situazione. Siamo la terza generazione per quanto riguarda alcune nazioni del Sud America. E questo perché ovviamente con il porto noi abbiamo rapporto con tutti e avendo rapporto con tutti c'è anche un rapporto non solo di beni, ma anche di persone e di cultura. E oggi anche di dati digitali. Quindi questi sono i valori della Blue Economy e su questi non torniamo indietro. Anzi, andiamo ancora più avanti. Allora, caro Bucci, si aspetta un secondo.